... ... ... ... i beni si hanno detto che non vuole chi è aspettare se non parli, ti invito a parlare maiolica che io lo dico al credito che è il parente delle dalle ma chi è sta gente? io non la conosco ah, non la conosce ah, non la conosce ah, non la conosce ah, non la conosce Au, ma che ci stai prendendo il giro? Qual affare è grosso? Ci stanno dei mezzi bufali. Con loro, se scherza! Beh, certo. I bufali sono nei mani grossi e anche di una certa forza. Au, ma che fai? Ci prendi in giro? Chiamo subito i fratelli bufoni. Ah, sono personaggi simpatici. Così ci facciamo quanto risate. Sentite, io di questa storia non so niente. Ho soltanto detto a mio fratello, au, a Sorcio. Ma adesso è matto a stare così. E il freddo ha detto che tu conosci la storia del Sorcio. Ma chi è sto Sorcio? Io Sorcio l'ho detto a mio fratello che è piccolo. Sì, ma gli ha detto secco. Sorcio, secco. Eh beh, perché mio fratello è piccolo. Secco. Au, ci sta prendendo in giro. Io direi di mandarla dal fiero l'occhio, che la spedisce dal zio Carlo, che la spedisce dal fiero l'occhio, La spedisce dal danza. Sì, è proprio il gatto che se mangia il topo che al mercato mi madre comprò. Ah, lo vedi che sei qualcosa? Chi è sta madre che ha comprato il topo, eh? Quanto gli avete dato? A voi romanzo criminale, va dato la testa.